Che cos'è l'ipertrofia prostatica benigna? Ne parliamo tra pochissimo su Medex. Ben ritrovati a Medex News. Che cos'è l'ipertrofia prostatica benigna? Ne parliamo oggi con il professor Salvatore Sanzalone, urologo, andrologo, Università Tor Vergate di Roma. Grazie professore di essere qui con noi. Grazie a lei per l'invito. Ci sono tantissime persone che ovviamente soffrono di questa patologia, quindi ho ritenuto opportuno parlarne con lei, che è uno dei luminari in tal senso. Vogliamo innanzitutto all'inizio della trasmissione, professore, spiegare che cos'è? L'ipertrofia prostatica benigna non è altro che un aumento di volume della prostata che comporta una serie di disturbi da un punto di vista minzionale. È una condizione che negli uomini si presenta al di sopra dei 50 anni generalmente, intorno al 50%, e con l'aumentare dell'età aumenta anche la percentuale di presenza. È uno dei problemi appunto che lei ha detto, secondo me, di maggiore rilevanza, superato una certa età nell'uomo. Ci sono dei controlli necessari da fare per accorgersi di questo problema e poi soprattutto per prevenirlo? Allora, diciamo che si presenta al problema del 50%, ma ciò che è importante è che nell'uomo cambia quella che è la qualità della vita. Che cosa intendo? Intendo che cominciano a presentarsi una serie di disturbi, tra i quali sono quelli di alzarsi la notte, una o due volte a notte. Alcuni pazienti, se il volume prostatico è molto grande, addirittura si possono alzare tre, quattro, cinque volte a notte. Il getto è diminuito, hanno quella che si chiama un'esitazione eminzionale, i pazienti non svuotano completamente la vescica, quindi si ha un ristagno vescicale determinando poi quelle che sono una serie di infezioni urinari. Questi sono i disturbi, disturbi principalmente che alterano, come dicevo, la qualità della vita. Ovviamente, a di sopra dei 50 anni, i pazienti fanno dei controlli. Questi controlli, sostanzialmente, sono principalmente il PSA. Questo è fondamentale, è un antigene prostatico che ci permette di fare una distinzione che magari il suo aumento può portare a quello che è un tumore della prostata. Però l'aumento del PSA non è detto che è tumore prostata, perché non è un tumore, diciamo, un markers tumore specifico. A questo punto, ho fatto questo esame, poi è importante fare un'ecografia. L'ecografia principale è l'ecografia prostatica transrettale. Questo ci permette di individuare e di quantificare l'eventuale presenza di un terzo lobo e di valutare il volume della prostata. Ecco, professore, vorrei ritornare su qualcosa che lei ha detto che è molto importante. Di notte l'uomo sente la sensazione di dover urinare più volte, anche se non riesce a farlo in maniera completa. Questo è un sintomo molto importante, che sono certa, molte donne, molte mogli in questo momento stanno riscontrando, ascoltando la nostra trasmissione, e diranno, eh, ma forse allora anche mio marito, che si sveglia più volte perché ha questa sensazione, potrebbe avere questo problema. Credo che sia un campanello importante da attenzionare, no? Assolutamente sì, tant'è che molto spesso l'uomo ha la tendenza a posticipare l'appuntamento con lo specialista, mentre poi è la moglie che spinge il marito ad andare dello specialista, perché oltre appunto a svegliare la moglie durante la notte, quelle due, tre volte, quindi altera non solo la qualità della vita sua, del paziente, ma anche quella della moglie. A quel punto c'è anche da considerare il fatto che quando va in bagno, magari prima ci metteva dieci secondi, quindici secondi, adesso ce ne mette qualche minuto, quindi la moglie si accorge di questo e spinge il marito verso un controllo specialistico. Ecco, questo è un altro fattore molto importante a sottolineare, quindi più volte si sente l'esigenza di andare in bagno, però paradossalmente ci si sta più tempo nel riuscire a fare pipì. Ecco, quindi questo è un altro importante campanello d'allarme da sottolineare. Assolutamente, perché questo aumento di volume prostatico, questa presenza di questi due lobi prostatici, determinano una ostruzione e questa ostruzione determina appunto un mancato svuotamento delle urine dalla vescica. Molto spesso il paziente spinge con la pancia, si chiama uso del torchio addominale, cioè spinge forte per poter espellere la pipì o le urine sostanzialmente. E resta ancora la sensazione di non essere usciti a pieno? Assolutamente sì, perché? Perché appunto c'è un ristagno all'interno. Ma una cosa molto importante è che non bisogna ritardare la visita specialistica. Questo perché? Perché la vescica, diciamo, ha un muscolo che si chiama detrusore. Oggi magari la vescica ha una capacità di 200-300 cc all'interno. A lungo andare, se il paziente non fa una visita specialistica e questa vescica non riesce a svuotarsi completamente, può avere un sfiancamento del muscolo e quindi successivamente lo stimolo, mentre prima veniva a 200-300, arriverà a 500. Quindi ci sarà un ulteriore ristagno all'interno con possibili problemi infettivi. Ecco, quindi pensate quanto è importante fare le visite mediche. La prevenzione, lo sapete, per me è fondamentale, lo continuo a ripetere sempre in tutte le mie trasmissioni, perché quello che noi possiamo riuscire a curare in una fase ovviamente iniziale è decisamente meglio, professore, rispetto a tutto ciò che si evolve. Assolutamente, pienamente d'accordo, ma questo vale in tutti i campi. In tutti i settori, dalla ginecologia all'oncologia, all'urologia, a qualsiasi settore, la prevenzione è fondamentale. Però io questo lo sottolineo paradossalmente soprattutto nei confronti degli uomini, che sono quelli che paradossalmente, le moglie o le compagne che ci stanno seguendo sicuramente mi diranno che stanno pensando che ho ragione, sono quelli che tendono un po' a spostare l'appuntamento con il medico. Prima sicuramente per una questione psicologica, si pensa che dover affrontare un medico sia quasi una carenza di mascolonità, no? Assolutamente. In qualche maniera io non ho bisogno di andarmi a fare vedere. Funziona tutto, quindi non è così. E poi perché si tende ovviamente questo eccesso di ego, tende un po' anche all'individualismo, a non pensare invece al partner che in qualche maniera condivide con noi la nostra vita. Assolutamente d'accordo, tant'è che oggi noi affrontiamo questi problemi sempre insieme alla moglie. Noi nell'ambito urologico, oggi stiamo parlando dell'ipertrofia prostatica, ma possiamo metterlo in altri argomenti, tipo nell'infertilità per esempio, che molto spesso, fino a tanti anni fa, era la donna il problema. Oggi questo non è più vero. Ci sono grossissimi problemi nell'uomo, tant'è addirittura l'infertilità è considerata un problema sociale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Assolutamente. Perché una coppia su cinque è sterile. Quindi oggi, oltre alla prevenzione, noi dobbiamo spingere l'uomo a capire che questi problemi sono problemi risolvibili sostanzialmente, ma bisogna prenderli in tempo. Ecco perché nasce la prevenzione. Allora, torniamo, vorrei tornare, professore, con lei nuovamente agli esami da fare. Lei ha parlato di PSA, che è un esame che in qualche maniera è, direi, obbligatorio per tutti gli uomini da una certa età in poi, quindi superati credo i 50 anni, no? Esatto. Però lei ha detto una cosa molto importante che vorrei ribadire per chi ci segue da casa. Non sempre il risultato del PSA è in qualche maniera totalizzante in quello che potrebbe essere un problema rispetto a un altro. Quindi è meglio poi andare a fare altri esami. Esatto. Allora, partiamo subito da questo presupposto. Intanto, quando noi diciamo ipertrofia prostatica e benigne, è perché abbiamo la tendenza ad escludere che ci siano altri problemi. Quindi noi facciamo questo PSA. Normalmente noi facciamo un PSA che è totale, libero e il rapporto. Questi sono tre valori fondamentali per noi, perché ci permettono di fare una iniziale distinzione. Se c'è un processo infiammatorio, come può essere quella che è una prostatite, perché anche la prostatite porta ad un innalzamento del PSA. Successivamente facciamo un'ecografia, l'ecografia prostatica transrettale. Questo ci permette di, come dicevo poc'anzi, oltre a valutare il volume prostatico, ci permette di individuare se ci sono delle piccole aree sospette che ci possono indurre ad effettuare altre indagini. Ovviamente, se noi dovessimo notare delle aree sospette, oggi abbiamo anche la fortuna di avere un ulteriore esame cardine prima di fare quella che è la biopsia prostatica. Questa si chiama una risonanza magnetica multiparametrica. Questo è un esame fondamentale, perché ci permette di ridurre il numero delle biopsie prostatiche. Mentre prima già avevamo un innalzamento del PSA, allora partivamo e facevamo subito la biopsia prostatica per escludere che ci fosse una patologia tumorale. Oggi, grazie alla risonanza magnetica multiparametrica, le biopsie, il numero delle biopsie, si sono ridotte. Ovviamente non abbiamo la certezza del 100% anche con la risonanza, ma ci dà un grande aiuto per fare un'indagine per poi escludere una patologia tumorale. Ecco, io non sono una che crea mai l'ermismi, anzi tendo ovviamente a tranquillizzare chi ci segue da casa, però a mettere il tarlo, perché questo è fondamentale. Volevo farle una domanda. Se il PSA, ok, non dovesse rivelare dei valori in qualche maniera alterati, però si continua ad avere questa sintomatologia notturna, può succedere che il PSA non rivela qualcosa che invece, che forse magari poi con un eco in qualche maniera si evince? Allora, come dicevo, il PSA non è un market tumore specifico. Il PSA noi lo controlliamo costantemente. Ovviamente il PSA nei soggetti ai 50 anni si fa una volta all'anno, nei soggetti che hanno una familiarità con il tumore della prostata l'età scende, intorno ai 40 anni. Però, diciamo, dobbiamo fare una grossa distinzione da quella che è la forma tumorale e da quella che è l'ipertrofia prostatica penigna. Diciamo che, escludendo la forma tumorale, come tutta l'andagine diagnostica, eccetera, eccetera, l'alzarsi la notte è dovuta all'ipertrofia prostatica, cioè ad un ingrossamento del volume. Questo noi possiamo ovviare, ovviamente, sempre con una terapia farmacologica nelle fasi iniziali, quindi è abbastanza semplice, potrebbe risolvere i problemi senza troppe cose. Ma questo, facendo la terapia farmacologica per l'ipertrofia, non esclude il ripetere il PSA l'anno successivo, perché sono due cose completamente diverse, quindi vanno monitorate. Ovviamente noi nell'ipertrofia facciamo la terapia farmacologica iniziale, qualora non dovesse essere sufficiente, perché l'alzata notturna, perché la presenza di getto diminuito o quella che è l'esitazione eminzionale, molto spesso capita l'urgenza eminzionale, ci sono dei pazienti che fanno i rappresentanti, si fermano a tutte le stazioni di servizio e questo non permette una qualità di vita eccezionale. Ecco, grazie professore. Io ho sottolineato nuovamente questa cosa che a volte il PSA non è sufficiente o comunque non è l'unico parametro da tenere in considerazione, perché nel corso degli anni della mia carriera ho visto, ho constatato più volte, che mi è stato detto, sì, vabbè, il PSA è tutto a posto in qualche maniera e non si va avanti in quello che sono ovviamente il resto delle procedure o delle visite necessarie e poi purtroppo alcuni di questi col passare del tempo hanno avuto delle problematiche più importanti. Ecco perché ci tenevo, voglio dire, a far sì che tutti avessero chiaro che il quadro va affrontato in maniera completa. Allora, intanto quando il paziente viene dallo specialista la prima cosa che si fa è la raccolta anamnestica e quindi quella che sono, diciamo, i dati principali, no? A parte se ha avuto malattie, comorbidità e quant'altro, o familiarità. Ma l'altra cosa molto importante, oltre a vedere la carta del PSA, è l'esplorazione rettale, no? Noi mettiamo, facciamo sempre l'esplorazione rettale perché? Perché con il dito noi riusciamo già a vedere se è presente o meno un nodulo, la presenza di qualcosa che ci può indurre a sospettare una patologia. Valutiamo se questa prostata è dolente, se non è dolente e quant'altro. Allora a quel punto investighiamo ulteriormente con altri esami quali l'ecografia, la risonanza, eccetera. Ecco, e questo tipo di esame, paradossalmente, pur avendo notevoli problemi, è uno di quello che l'uomo tende a evitare oppure non comunicare neanche al partner o a se stesso perché si pensa anche qui che si va incontro a un difetto di mascolunità. Cioè fare questo tipo di esame per alcuni non è il massimo. Però io vorrei ribadire che la salute viene prima di tutto. Cioè dobbiamo cercare un po' di smussare questi luoghi comuni psicologici che in qualche maniera ledono voglia della nostra salute e soprattutto, come ha detto lei, professore, bene, la qualità della nostra vita. Perché quando si è costretti a doversi fermare più volte per poi dover urinare e quindi magari nel mezzo di una riunione, di un impegno, avere questa sensazione continua certamente è un disagio della qualità della vita. Assolutamente. Questo è... Affrontiamolo. Noi affrontiamolo e in maniera serenamente perché voglio dire, ormai diciamo gli anni del tabù sono stati superati. La prevenzione è fondamentale e ti salva la vita e quindi una visita specialistica ormai diciamo è una delle cose fondamentali. Sul fatto che gli anni del tabù siano superati, professore, ho qualche dubbio. Però noi cerchiamo di essere positivi. Noi stiamo lavorando su questo. Lavoriamo affinché questo avvenga perché è fondamentale. Queste trasmissioni, grazie a lei, ci aiutano a dare questa informazione e a spingere sempre di più alla prevenzione. Ovviamente anche a me è capitato qualche paziente che magari voleva rifiutare la cosa. Ma oggi si chiama cancelling. Quando tu fai un buon cancelling, una buona chiacchierata con il paziente, spieghi, metti sereno il paziente ad affrontare la problematica, piano piano il paziente si abitua ed esce fuori da alcuni prototipi, alcuni stereotopi del passato. E quindi usciamo fuori da questo tabù. L'importante è che il paziente sia sereno e tranquillizzato. Questo è fondamentale. Una volta, professore, che si è stabilito con tutti questi esami che il paziente soffre di ipertrofia prostatica benigna, che cosa si fa? Allora, come dicevo, possiamo intanto dare una terapia farmacologica. Nel caso in cui questa terapia non dovesse funzionare, si procede a quello che è un intervento chirurgico. Fino a qualche anno fa noi avevamo quello che si chiama gold standard, o quantomeno era la TURP, e cioè la resezione prostatica transuretrale. Era un intervento chirurgico che necessitavano circa tre giorni di ricovero, un quarto giorno andava a casa, c'era una problematica di sanguinamento, c'era in alcuni casi anche il rischio di incontinenza, ma ciò che era importante è che nel 100% dei casi c'era l'eiaculazione retrograda, che significa che il liquido seminale durante i rapporti sessuali non usciva più verso l'esterno. Oggi, fortunatamente, grazie alla medicina innovativa e quant'altro, abbiamo una nuova tecnica che si chiama Rezum. È una tecnica, a mio parere, fantastica, perché? Perché è una tecnica che si fa in ambulatorio, cioè è una tecnica che dura circa un quarto d'ora e dopo un'ora, un paio di ore, il paziente va a casa. Non necessita di un'anestesia generale o spinale, ma semplicemente di una piccola sedazione, come quella che uno fa durante una gastroscopia o una colonoscopia, per esempio. si fa la procedura, la procedura dura circa dieci minuti, si tratta di iniettare all'interno della prostata del vapore acqueo e questo permette una disostruzione della prostata nell'arco di circa un mesetto. Il paziente abbandona immediatamente la terapia farmacologica e dopo qualche ora se ne va a casa. Ma ciò che è importante, dicevo, non ha perdita di sangue e quasi nell'80% dei casi c'è la preservazione dell'eiaculato. Cioè un uomo di 50 anni, come diceva poc'anzi lei dottoressa, della virilità, di tutte queste cose, se sente che perde l'eiaculato durante un rapporto sessuale allora si crea un disagio, tende ad abbandonare l'idea del trattamento. Oggi, grazie a questa nuova tecnica, possiamo offrire un'alternativa con una preservazione dell'eiaculato quasi nell'80% dei pazienti e questo per me da medico è un ottimo risultato. Assolutamente, possiamo dire che con un intervento in dei hospital senza anestesia totale, anzi locale, in poche ore si riesce a risolvere un problema che invece diciamo che genera molto più problematiche rispetto al tempo che si spende nel risolverlo. Assolutamente, creava molta ansia, il ricovero, l'anestesia generale, in alcune circostanze anche l'incontinenza è un disastro per un uomo, l'incontinenza significa perdere la pipì, indossare quei salvaslipi e in alcune circostanze quando l'incontinenza è importante anche qualche di pannolone, quindi ecco l'evoluzione della medicina e grazie a questa evoluzione possiamo offrire quello che è una alternativa alla, non diciamo vecchia e abbandonata tecnica, perché è una tecnica sempre funzionale, ma oggi possiamo offrire qualcosa di diverso. Professore, in chiusura, lei ha parlato di counseling, dell'importanza dell'approccio con il paziente quando si si incontra e della fiducia e della necessità di instaurare un rapporto con lui. Credo che sia uno dei principi base che l'hanno spinta a realizzare il poliabolatorio GISA anche a Catania oltre a lavorare anche a Roma. Certamente, perché il counseling è alla base della nostra specialistica, ma non solo nella mia, ma dovrebbe essere in tutto l'ambito della medicina, perché il paziente deve intanto sapere tutto riguardo alla sua di patologia, ma nello stesso tempo dobbiamo abbracciarlo, portarlo con noi verso l'intervento spiegando appieno quali possono essere i benefici, quali possono essere le eventuali complicanze, ma comunque parlare con il paziente è fondamentale e non pensare che sia una persona astratta o un numero, ma è una persona appunto che va trattata come tale e affrontare i problemi insieme. Noi offriamo la soluzione al paziente in quanto medici, ma comunque è sempre un paziente ed è sempre una persona umana che sta vicino a noi. Professore, noi la ringraziamo davvero tantissimo, ringraziamo il professor Salvatore San Salone, urologo, andrologo dell'Università Tor Vergata, abbiamo detto che però fortunatamente per coloro che ci seguono grazie alla presenza del poliombolatorio Gisa a Catania avete anche la possibilità di confrontarvi con lui anche nel nostro territorio siciliano, quindi grazie ancora professore. Grazie a lei. E grazie a tutti voi di aver seguito il nostro Medex News. Medex News